Fu condannato a tre mesi di carcere. Henry Slade, non si sa la data della nascita, è trapassato nel 1905. Medium americano ad effetti fisici, uno dei più contestati degli inizi del progetto spiritico. A Londra fu condannato a tre mesi di carcere, ma riuscì a fuggire prima della sentenza di appello. Produceva fenomeni di scrittura diretta su lavagna, materializzazioni parziali, telecinesi e compenetrazione. Probabilmente durante gli ultimi tempi della sua medianità, vedendo diminuire le sue facoltà, cercò di fraudare dinanzi alla minaccia della povertà. La frode è presente anche oggi, fra gli strumenti falsi ed anche genuini, che non vogliono deludere i partecipanti alle riunioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione!